Buonasera e benvenuti al notiziario del Lodigiano. Apriamo con la serata che è stata dedicata ieri al Collegio Vescovile di Lodi, al Cardinale Carlo Maria Martini. L'occasione è stata la presentazione del libro del teologo Marco Vergottini, Martini e noi, un evento organizzato da Meic, Fucci, Azione Cattolica e Progetto Culturale. Fare memoria poco più di tre anni dalla sua scomparsa del Cardinale Carlo Maria Martini, ancora molto vivo, presente, il cui ricordo scalda i cuori pensanti. Sono le parole del teologo Marco Vergottini, a Lodi per presentare il suo libro Martini e noi, una raccolta di oltre 100 testimonianze di persone che l'hanno conosciuto personalmente. Martini è arrivato a Milano portando il Vangelo in mano e incontrando la gente, anzi è partito dalle carceri, dalle carceri di San Vittore e poi ha spiegato la parola alla gente, alla gente colta, la gente più semplice, agli adulti, ai giovani e è riuscito col Vangelo in mano a lasciare un segno in 22 anni di Ministero Episcopale. Qual è il suo ricordo personale? Il ricordo personale è il mio rapporto con lui dovuto al fatto che io sono diventato segretario del Consiglio Pastorale Dio Cesano e ho potuto vivere con lui fianco a fianco questa esperienza di sinodalità della Chiesa e tra l'altro anche con la gioia di poter cenare e pranzare con lui. Martini si rilassava, io gli facevo domande sulla Gregoriana, sui suoi studi biblici, ma parlavamo anche di letteratura e era un rapporto molto cordiale, ogni tanto lui aveva bisogno anche di fiatare un po' per i tanti impegni che aveva durante la sua vita episcopale. Imponente nella signorilità e delicatezza, così il Vescovo di Lodi, Monsignor Maurizio Malvestiti, ha ricordato il suo primo incontro con il Cardinale Carlo Maria Martini. Io l'ho incontrato da giovane prete al seminario di Bergamo, nella visita di Giovanni Paolo II e poi in altre circostanze, ma l'ho potuto avvicinare in maniera più proficua a Roma perché fu sempre membro della Congregazione per le Chiese Orientali. L'ho incontrato infine a Gerusalemme, nella stagione più silenziosa, quando egli voleva dirsi intercessore in questa terra che conosceva tanti conflitti, ma che è la prima terra chiamata a testimoniare e ad offrire la pace che viene da Dio. A condividere con i presenti i propri ricordi del Cardinale Carlo Maria Martini il Vescovo Emerito di Lodi, Monsignor Giuseppe Merisi, che per molti anni ne fu Vescovo ausiliare per l'Arcidiocesi di Milano. Qual è l'eredità che ci ha lasciato? E soprattutto un'eredità legata alla sua testimonianza personale, la sua capacità di raccordare intelligenza, ricerca, silenzio, preghiera e capacità al tempo stesso di condurre un cammino di una diocesi, di una comunità con questa grande capacità di riferimento, con un carisma che la gente accoglieva e che seguiva volentieri. Una autorevolezza che diventava autorità vera, capace di indicare delle prospettive e di contribuire alla sua realizzazione di queste prospettive. Questa sera alle 21 alla Chiesa della Maddalena sarà celebrata una messa in suffragio delle vittime, degli attentati di Parigi e di tutti gli attentati terroristici. A celebrare la messa davanti al crocifisso che sarà portato a mano nella navata, il parroco della Maddalena di San Rocco, Don Dino Monico. Il Vescovo di Lodi, Monsignor Maurizio Malvestiti, si recherà in visita pastorale in Uruguay per incontrare la realtà rappresentata dalla missione diocesana che da alcuni anni opera in Sud America. Ad accompagnare il Vescovo, il direttore dell'ufficio missionario della diocesi di Lodi, Don Luca Maesano. Partiremo lunedì 23 novembre e rimarremo in Uruguay 10 giorni, per cui il 2 dicembre saremo già di ritorno. Come sarà articolato il programma di questa visita? È un programma vario perché è come una visita pastorale che il Vescovo fa ai nostri missionari. Visiteremo la missione, poi avremo tempo anche per incontrare tutti i preti della diocesi di Mercedes, dove siamo, poi vedremo anche il seminario a Montevideo e altre realtà ecclesiali dell'Uruguay. Ricordiamo quella che è la realtà rappresentata dalla missione diocesana lodigiana in Uruguay. Sì, noi siamo in Uruguay con due sacerdoti, Don Marco e Don Giancarlo e con loro c'è anche Don Federico della diocesi di Crema. Tra poco arriverà anche Don Francesco, sempre della diocesi di Crema. E la realtà è quella di una missione che si suddivide in due diocesi, per noi è Mercedes, per Crema è San Jose, che però hanno anche come valore aggiunto la vita comune di questi sacerdoti per due giorni e mezzo alla settimana. La delegazione di Lodi, oltre al Vescovo, da chi sarà composta? Da me e da Don Dino Monico, parco della Maddalena del Borgo, che viene per vedere anche lui la missione. Il prefetto di Lodi, Patrizia Palmisani, ha preseduto una riunione tecnica di coordinamento delle forze di polizia sul rafforzamento delle misure di sicurezza dopo gli attentati di Parigi. Nel corso della seduta, si legge in una nota diffusa dalla Prefettura, è stata confermata l'analisi degli obiettivi sensibili e disposto l'incremento del controllo e della vigilanza su tutti i luoghi di aggregazione, dove si registra una forte presenza di persone. Pur appurando che non ci sono concreti segnali di rischio direttamente collegati al nostro territorio, è stata disposta l'intensificazione dell'ordinaria attività di vigilanza, con il coinvolgimento di tutte le forze dell'ordine. Le misure disposte saranno monitorate nel corso di successivi incontri, cui saranno invitati a partecipare anche i sindaci delle città della provincia. E cambiamo argomento. Fila storie, il progetto di turismo emozionale realizzato dalla cooperativa sociale Microcosmi, sostenuto dalla provincia di Lodi e da altre realtà del territorio lodigiano, ha vinto il primo premio ex-eco con Perugia e Campobasso nel concorso Be Active, promosso dall'Unione delle Provincie Italiane. Dieci anni fa, dei ragazzi che poi sono diventati amici, hanno aperto un posto qua sotto le mura del Torione. Un portale rivolto a ragazzi e ragazze dell'Odigiano per promuovere cittadinanza attiva e coesione sociale, una piattaforma semplice e intuitiva che tutti possano utilizzare raccontando il territorio e per il futuro divenire occasione per narrare il lodigiano e le sue particolarità ed eccellenze da un punto di vista anche turistico. E' questo in sintesi il progetto Fila storie, dedicato ad un turismo emozionale, realizzato dalla cooperativa sociale Microcosmi e sostenuto dalla provincia di Lodi, che si è giudicato in ex-equo il primo premio nel progetto nazionale Be Active, promosso dall'Unione delle Provincie Italiane. Il portale, il risultato del lavoro svolto la scorsa estate, propone una cinquantina di storie. Il Presidente della provincia di Lodi, Mauro Soldati, ha commentato con soddisfazione il risultato ottenuto per un progetto al quale la provincia di Lodi ha dato subito il proprio convinto sostegno. Questo bando di UPI, che è l'Unione delle Provincie Italiane, che ha messo a disposizione un finanziamento affinché dei giovani creassero, attraverso le nuove tecnologie, dei progetti rivolti ad altri giovani. Fila storie non è altro che il racconto dei luoghi dell'Odigiano raccontati da chi questi luoghi li vive. Non sono necessariamente i luoghi più belli dal punto di vista artistico o naturalistico, ma sono i luoghi più significativi per chi le vive. Come si è sviluppato poi in questi mesi? Allora, in questi mesi in pratica sono stati fatti dei laboratori con i giovani affinché acquisissero alcune competenze relative a come fare un'intervista narrativa, perché la metodologia è estremamente importante, quindi un qualcosa che andasse a incontrare davvero la persona e quindi a creare una relazione e non tanto un'intervista giornalistica. Quindi sull'intervista narrativa, sul videomaking, quindi un'intervista narrativa attraverso una ripresa video e poi alcuni elementi invece relativi al turismo. Noi stiamo rilanciando questa iniziativa attraverso i fondi della Fondazione Comunitaria della provincia di Lodi, che ha dato al progetto, ha destinato un finanziamento. In questo momento stiamo cercando di raccogliere dei fondi per completare il fondo necessario e poter continuare. L'aver vinto questo concorso darà la possibilità ad una ventina di giovani lodigiani di poter partecipare a un corso di formazione e learning, mentre dopo il riconoscimento da parte del Lupi, la Fondazione Comunitaria ha dato il proprio sostegno perché il secondo atto di filastorie arrivi a definire quella che sarà una mappa di luoghi che meritano di essere raccontati nel lodigiano. Domani, in serata nel quartiere San Fereolo, avrà inizio la rimozione dei cassonetti per il passaggio dall'attuale conferimento dei rifiuti in Cassonetto al nuovo sistema Porta a Porta, che sarà avviato a partire da lunedì 23 novembre. E con questo è tutto. Vi ringrazio per essere stati con noi. L'appuntamento è per lunedì sera. Arrivederci. L'appuntamento è per l'attuale conferimento dei rifiuti in Cassonetto.